Ciao amiche, oggi vi farò vedere come con le mie chameleon esibirò un taglio di gran moda in questo momento andremo a fare sulla nostra amica Jenny un bob completamente destrutturato faremo una forma geometrica alla base e la destruttureremo completamente nell'interno per un effetto dirty waves alla fine andiamo Grazie a tutti